Il prossimo 28 marzo uscirà su Playstation 3 e Xbox 360 il terzo capitolo della saga di Army of Two, Devil's Cartel. Da oggi Electronic Arts ci mette a disposizione un demo di circa 1,6 giga per iniziare a prendere confidenza con il sistema di coperture e di combattimento proposto. Il nostro giocato, basato sulla componente single player, si divide in una prima parte in cui si esplorano le possibili modifiche alle armi e una seconda in cui invece potrete apprezzare l'azione esplosiva proposta. Anche il demo, come il gioco completo, è giocabile in cooperativa online o in split screen, ma per mostrarvi questa versione dimostrativa abbiamo preferito giocare in solitaria per farvi vedere anche la possibilità di impartire ordini al proprio compagno, guidato da una CPU piuttosto evoluta. Ora non ci resta che lasciarvi al giocato, in modo da farvi dare un'occhiata approfondita al gioco. Buona visione! 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 Tell these rookies how it's done. Eccoli! Base, li abbiamo recuperati. Bene, idrateli fuori di lì. Signori, preparatevi, si va! Cui, Becker! Ci serve una mano qui! Ricevuto! Siamo appena fuori. Dietro di voi. Non se ne parla. Sta arrivando un elicottero per l'estrazione. Voi due dovete salirci. Fico. Rios ci ha trovato una limusina. Volete dare una mano? Salite sul tetto e portate il culo su quell'elicottero. Muoviamoci. Mi serve una spinta. Vieni, ti do una mano. Direi che siamo in vantaggio. Possiamo fiancheggiare o andare dritti addosso. Tenga, i nostri occhi abiti. Cuidadito, muchachos. Stava sicuro, scopera. Come se non è portato un altro. Un croquet campo, nell'altro edificio. Se non è portato un altro. Sì, non è portato un altro. Scopera. 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 seguimi io li tengo impegnati ricevuto vai avanti ok muoviamoci ehi quanto ci mettete abbiamo incontrato resistenza ci siamo quasi apri quella porta così facciamo le cose per bene lancia una granata scordatelo dovremo scavalcare per poter procedere che aspettiamo salgo aiutami ti do una spinta certo merda trovo una strada coprimi ti copro io a giro fatto sono incazzato ok via granata mi serve aiuto qui ok lancia una granata granata vieni a darmi una mano sei coperto indietro io cerco una strada andiamo vi starete anche facendo tanti nuovi amici ma dovete muovervi solo un dia d'intoppo arriviamo avanti elicottero in arrivo giù lo tetto signorina sì quell'elicottero spara sul serio figa vieni a dargli una mano l'avete finito signorina andate sul tetto vai di poco incrociato punto al fianco ok via vai così bene stagli addosso e resta giù cartello non vada al me alcuni di loro sono ex soldati eh li pagheranno di più ehi quanto ci mettete dobbiamo andare dietro di me entriamo al segnale via via la ZA è libera ricevuto vengo a prendervi i feriti sono su un altro tetto vero? affermativo anche là la situazione scotta uno dei due va alla mitragliatrice e libera i tempi l'altro resta a terra ed elimina gli RPG ok aiutami a salire sull'elicottero d'accordo decolla andiamo ti copro io da qui all'inferno apriamo le dame sì lo vedo no non posso andare in posizione se non elimini quell'RBG presti quell'RBG forza ci sto provando fuoco a rapica vedo gli agenti degli APE sono bloccati mi sono rotto giocare con voi bisogna aprire un passaggio per raggiungere i feriti un attimo tolgo di mezzo l'antenna ecco vediamoci alla Z ricevuto ho capito abbiamo perso il controllo vedetevi forti occhio sono trappi riesci? non credo che quest'affare reggerà reggerà eccolo mira al pilota per raggiungere il controllo per raggiungere il controllo coraggio as parka 1-2-2-0-1-0-1-0-2-0-0-1-0-1-0-2-0-1-0-2-0-1-0-3-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-an-b bishop,